Allora, Assessore Pireri, il 30 di novembre c'è un evento dedicato a chi è meno fortunato di noi, di che cosa si tratta? Sì, sono proprio lieta di poterlo comunicare, perché il 30 novembre alle ore 21 al Salone dei diritti umanitari di Villermont ci sarà una cena. È una cena organizzata da dei cittadini, da un gruppo di Facebook, che si è sentito di portare a chi ha più bisogno un conforto e un aiuto. Quindi una raccolta fondi con questa cena che verrà riversata totalmente a favore della Mesa dei Poveri, a favore di Miria per i Poveri, la nostra Mesa Cittadina, che vede tutti i giorni, tutte le sere, più di 50-60 persone che lì vanno a mangiare. Ecco, quindi, che sarai mesi partecipino numerosi? Noi li aspettiamo veramente tutti, perché con un piccolo gesto possiamo dare delle grandi risposte a chi ha avviso.